Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Torniamo a parlare di elezioni regionali perché insomma sarà un'estate calda da questo punto di vista, anche dal punto di vista del meteo, si spera soprattutto se questo poi ha delle ricadute positive anche sull'emergenza coronavirus, ma sarà caldissima anche in Toscana e soprattutto in Toscana per le elezioni regionali. Anche perché proprio nelle ultime ore il nome di Susanna Ceccardi è stato confermato per la candidatura del centro-destra e quindi di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, dopo che comunque intorno a gennaio-febbraio già il suo nome era circolato con insistenza. Quindi c'è voluto un po' di tempo, ma poi alla fine il tavolo nazionale si è espresso in favore di Susanna Ceccardi. Evidentemente partirà Susanna Ceccardi nel tentare di ricomporre le anime, visto che qualche frizione in Toscana c'era stata con gli alleati, ma è chiaro che sia il centro-sinistra, il centro-destra, un po' tutti quelli che si vorranno candidare e dovranno aggiornare i loro programmi sul post-Covid, perché quello che ci aspetta nell'autunno sembra essere una crisi economica e speriamo non sanitaria, davvero difficile. Ne parleremo con un rappresentante del Partito Democratico regionale, che è Massimiliano Pescini, che saluto e ringrazio. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, intanto volevo chiederle questo, visto che insomma voi siete occupati come segretaria regionale anche di scrivere il programma, in un tempo che sembrava tutto sommato tranquillo nell'avvicinarsi all'elezione regionale, anche perché il nome di Gianni era stato fatto ormai da tempo, poi è arrivato il coronavirus. Che cosa è successo anche per voi? Che cosa avete fatto in questi mesi? Avete lavorato o siete stati in quarantena? Siamo stati in quarantena ovviamente, ma abbiamo lavorato molto utilizzando, abbiamo fatto come tanti italiani, abbiamo utilizzato gli strumenti a disposizione per superare le distanze e il momento di mobilità fisica. L'abbiamo fatto, devo dire, in maniera anche molto metodica. Abbiamo creato dei gruppi di lavoro, proprio come il Partito Democratico, abbiamo fatto tante videoconferenze, abbiamo riunito gli organismi in videoconferenza e abbiamo anche parlato, non solo tra di noi, ma con tanti pezzi di solità toscana, a partire ovviamente dalla sanità, dai territori e parlando anche con tutte le categorie economiche, il mondo del lavoro, le parti sociali, i sindacati, cercando a livello territoriale e anche a livello regionale di capire quello che stava succedendo. Avendo una responsabilità di governo, ovviamente c'è stata una grande collaborazione tra chi è nelle istituzioni del Partito Democratico, i sindaci, ovviamente il gruppo regionale, la giunta regionale e chi, come noi, aveva il compito di mettere a disposizione della coalizione un nuovo modo di intendere la Toscana, che ovviamente non parte dall'azzeramento di tutto quello che avevamo scritto, insieme alla coalizione formata con 18 sigle e saranno 5-6 liste che sostengono Eugenio Gianni, ma abbiamo cercato di farlo soprattutto per capire che cosa è la Toscana oggi, che ha delle basi che in alcuni casi sono profondamente mutate, in altri casi hanno comunque caratteristiche che vanno analizzate. Le basi mutate sono quelle che, ad esempio, dobbiamo spingere molto di più, era già accennato nel programma, ma la questione delle priorità politiche è importante. Se uno pensa alla semplificazione e uno pensa a quello che è successo anche su alcuni provvedimenti nazionali o nell'interpretazione di alcuni provvedimenti nazionali, accaduta da parte delle regioni e degli enti locali, quasi un conflitto a un certo punto, tra le competenze regionali e quelle governative. Esattamente, c'è un conflitto di competenze e poi c'è anche una, io se penso al decreto rilancio, abbiamo anche analizzato, sono centinaia di articoli, migliaia di commi, centinaia di rimandi legislativi ad altre produzioni normative. Quindi, lo si capisce anche dal linguaggio che sto usando, una difficoltà enorme verso i cittadini, ma non solo verso i cittadini, anche verso chi deve applicare le leggi funzionali, i dirigenti, tutti coloro che si occupano, e ovviamente le categorie economiche, le imprese, coloro che lavorano nei vari settori, tutto questo diventa farraginoso e diventa insopportabile. In un tempo come questo, in cui semplificazione, rapidità nelle decisioni e, ad esempio, utilizzo, lo dicevo prima, dei nuovi strumenti, dei nuovi mezzi, la digitalizzazione completa della pubblica amministrazione per quanto riguarda l'accesso e la possibilità di accesso, quindi l'infrastrutturazione su cui la Toscana, per la banda ultralaga, su cui la Toscana ha fatto molto, ma deve ancora completare il suo percorso, perché sarà l'accesso e quindi tutta una parte sulla semplificazione per quanto riguarda la possibilità di utilizzare i servizi attraverso un click e quindi attraverso pochi passaggi, la possibilità, semplificazione, di avere più autocertificazioni e più controlli dopo, piuttosto che una serie di produzioni cartacee che oggi comportano per le aziende anche una spesa enorme e anche per i professionisti una perdita di tempo enorme per quelli che seguono le aziende. Faccio solo degli esempi, ma queste sono basi profondamente cambiate. Poi ci sono i grandi temi che sono la sanità, il lavoro e le infrastrutture e ovviamente l'ambiente e la scuola, che sono grandi temi su cui, quattro macro temi, su cui saperi, ricerca, università, scuola, sanità, salute, ambiente e sviluppo sostenibile insieme al lavoro sono, che è la parte che ci preoccupa di più insieme alla salute, è quello che dovremo fare per la Toscana. Parlando il linguaggio dei toscani, non parlando il linguaggio di altri luoghi di decisione come succede, noi abbiamo un vantaggio rispetto alle altre coalizioni. Noi abbiamo scelto il candidato e sceglieremo la forma della coalizione, tutto a livello toscano. Non c'è voluto il tavolo nazionale, dice lei. Abbiamo fatto un grande lavoro e complesso, quando hai un capo a Roma o alcuni capi che decidono è molto meglio, però conosci molto di più la realtà e questo è un grande vantaggio che abbiamo, credo, per ora saputo utilizzare al meglio. Senta, dei macro temi che diceva, anche prima di dirli, ma ne avevo già segnato un paio su cui fare un paio di domande. La prima è questa, rispetto alla sanità, forse questa emergenza coronavirus ha chiarito una cosa che poi in realtà forse dal candidato Gianni era già stata anche in qualche modo velatamente annunciata, cioè il fatto che la territorialità della medicina e in qualche modo la capillarità della sanità ha ancora un valore importante. E questo secondo me è un tema che si può applicare a diversi ambiti, perché negli anni scorsi si è tentato di accentrare, di accorpare molto nell'ottica che l'Unione fa alla forza, in qualche modo si tagliano i costi, si semplificano i processi, si accentra, però si perde quella vicinanza forse al territorio. C'è un ripensamento, secondo lei, su questo, soprattutto in ambito sanitario? Il coronavirus ha reimpostato un po' la discussione su questo tema? L'ha reimpostata, rendendola ancora più centrale dentro il tema sanitario. Avevamo già chiare alcune criticità. Gianni aveva già detto che andava ritoccata la riforma sanitaria. Vanno ritoccate, non è questione solo di aslone o di numeri dei centri decisionali, è questione di legare l'assistenza sociosanitaria agli ospedali, è questione di fare medicina di prevenzione vera sul territorio, cure intermedie che siano di accompagnamento alle strutture ospedaliere e che impediscano l'intasamento degli ospedali, come la medicina di prevenzione, la medicina di territorio deve prevenire. Pensiamo agli esempi, anche ci sono alcuni esempi fatti nell'emergenza, i Girot, gli Uska, che sono Sicle, ma sono unità operative fatte da professionisti che sono sul territorio una ogni 50 mila abitanti che cercano ogni giorno di seguire, monitorare tutti i casi di Covid. Ovviamente passata, quando sarà concluso il ciclo dell'emergenza, ci troveremo dinanzi però a un bisogno di avere forme simili che siano in grado di accompagnare il paziente sia quando presenta alcuni sintomi sia quando esce dall'ospedale, perché gli ospedali per acuti è stato un grande investimento della Toscana. E avere anche una rete territoriale di 44, più uno, perché l'altro è Maier, 45 ospedali capillarmente diffusi sul territorio regionale è una cosa importante, ma ognuno di loro deve trovare un ruolo, una funzione vera e coordinata con gli altri dentro il sistema sanitario toscano. E va anche ricordato che ora è stato firmato anche l'accordo con Livorno dopo che la giunta Nogarin l'aveva stoppato per 5 anni, l'accordo sul nuovo ospedale di Livorno, oggi finalmente è stato firmato da poche settimane, ma tutti gli ospedali toscani delle grandi aree e delle grandi città sono rinnovati, nuovi e hanno potuto applicare bene i protocolli Covid previsti dal Ministero della Salute proprio perché avevano già una costruzione a moduli. In più, per esempio, la nostra area fiorentina, ci sono già investimenti in ponte sui grandi ospedali. A Careggia è già stato molto e ha ancora investimenti da completare, ma è stata riprogrammata tutta l'area, ma penso a quello che deve succedere anche sugli ospedali sia Pontanniccheri che Torregalli, Pontanniccheri in corso, Torregalli, San Giovanni di Dio, insomma, in progettazione. A Borgo tutta la vicenda della, visto che qui siamo in Mugello, tutta la vicenda importante della messa in sicurezza, non solo statica, come è stato fatto per una parte, ma sismica, e la riprogettazione di alcune aree dell'ospedale in maniera funzionale all'interno dei volumi già esistenti, ma la prima cosa è la sicurezza sismica di quell'ospedale che è stato costruito nella sua parte fondamentale negli anni 30-40 e anche per Figline, che è l'altro ospedale, sono 5 gli ospedali della parte di Firenze dell'ASL Toscana Centro, ha anche un ruolo per Figline, che tra l'altro è stato di sostegno a Ponte Anniccheri, ad esempio, che è rimasto l'unico ospedale Covid ora dopo anche la fine della fase più acuta dell'emergenza, come ospedale non Covid. Tant'è vero che il nostro candidato presidente andrà a Borgo, ha già visitato alcuni ospedali, ha visitato anche recentemente, ci sono alcune questioni, l'ospedale di Figline. Il segnale che Gianni sta dando e che tutti noi vogliamo che si dia è saremo attenti alla sanità sia territoriale dal punto di vista del mantenimento dei presidi sanitari e ospedalieri, sia territoriale dal punto di vista della prevenzione. Altro grande tema, e chiudo su questo, sono ad esempio le case della salute, realmente funzionanti, capillari sul territorio, in accordo con un mondo che ha dimostrato, va detto e ridetto, non si dice mai abbastanza, un mondo che ha dimostrato di essere pienamente integrato dentro il sistema sanitario toscano e di essere una forza assoluta, una particularità assoluta del nostro sistema sanitario che è il mondo del volontariato. Il mondo del volontariato anche in questa emergenza ha dimostrato la sua indispensabilità. Va inserito dentro un sistema universalista, generalista, a grande maggioranza pubblica, che ovviamente sa fare controlli buoni e corretti su quella parte di sanità che viene convenzionata con il privato sociale e ovviamente altro grande tema, quello dell'RSA, ad esempio con l'RSA sa creare protocolli proprio riguardo alla medicina di famiglia, alla medicina territoriale, al controllo rispetto alla sicurezza delle strutture che devono essere molto più rigorosi rispetto al passato. Sì, il controllo effettivamente, soprattutto in quell'RSA che non sono state gestite direttamente da sanità o da persone che avevano esperienza sanitaria, perché poi ovviamente sono... Alcune sono state anche commissariate, però per questo. Esatto, e hanno mostrato il fianco in questa emergenza. Senta, altro tema, qui ne collego anche un paio perché qualcuno ne fa una questione anche ambientale, qualcun altro invece i propositori ne fanno anche una questione di turismo, di un turismo però che, insomma, la previsione dei prossimi anni sarà più difficile portare in Toscana, soprattutto dall'estero. Sto parlando di infrastrutture in particolare del tema aeroporto. Poi faccio una domanda anche sulle altre infrastrutture perché spesso si rischia di parlare, se non solo di quella, ce ne sono altre, insomma, altrettanto importanti. Però quello è un tema, no? Ha senso ancora oggi dopo il coronavirus con dei numeri sul turismo che metteranno anni per ritornare a quelli pre-Covid, immaginare uno scalo fiorentino insomma più funzionale, più grande e quindi che possa fare accedere anche più voli. Dipende sempre da come si comincia il ragionamento sul sistema aeroportuale toscano. Se i due aeroporti, Pisa e Firenze, sono in competizione è chiaro che c'è un aeroporto più piccolo che, come dire, avrà delle difficoltà. Se invece, come è stato il ragionamento degli ultimi anni, c'è un'unica proprietà, è un unico sistema aeroportuale. Ogni aeroporto tra i due ha delle funzioni precise. I voli internazionali e intercontinentali rimarranno per larga parte a Pisa, i voli low cost rimarranno per buona parte a Pisa, ma ci sono tutta una serie di opportunità per una città come Firenze, turistica, turistica d'affari, una grande città all'interno di un'area centrale manufatturiera importante, quindi non solo turismo d'affari, ma vero giro di affari, di imprese che hanno la necessità di raggiungere velocemente Firenze. Se questo, dentro un ragionamento di mitigazioni ambientali e sicurezza per quell'area, significa stare dentro un sistema che deve funzionare con 12 milioni di passeggeri previsti a un'area all'anno. Pisa, prima del Covid, aveva non del tutto raggiunto la quota prevista, ma insomma per Pisa è 7 milioni e mezzo di passeggeri, per Firenze è 4 milioni e mezzo di passeggeri, da cui Firenze era lontana per i noti limiti strutturali. Forse l'ho già detto in questa sede, lo ridico, Firenze provo a ribaltare anche il suo ragionamento, se mi posso permettere, perché quello che ha detto è corretto. Ancora di più uno può pensare, con una crisi così, un aeroporto così poco funzionale rischia la chiusura, quindi rischiamo di perdere il posto migliaia di persone, oltre a tutto un indotto, sia potenziali sia attuali, oltre a tutto un indotto che vive su quell'aeroporto. È un aeroporto che ha servito fino a oggi 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 800 mila passeggeri. Quindi lo vogliamo chiudere in queste condizioni di sicurezza? No, dobbiamo migliorare le condizioni di sicurezza, perché Firenze ha un suo ruolo importante dentro il sistema aeroportuale toscano e dal punto di vista aeroportuale qualunque tecnico, oltre agli enti nazionali di aviazione e di controllo dei voli, dicono che la pista parallela è più sicura rispetto alla pista attuale perpendicolare. Ricordiamolo, ci vuole praticamente un patentino speciale per pochi aeroporti in tutta Europa, mi pare siano quattro, uno di questi è Firenze, però per la pericolosità, Reggio Calabria, Dubrovnik mi serve a un'isola greca. Volevo fare una domanda su questo, perché spesso e volentieri in questo argomento si inserisce un argomento accessorico è quello di dire guarda attenzione, perché poi dall'altra parte il rischio è che se si perde Firenze, Pisa rimane quello che è, avendo dei limiti strutturali, Bologna ci sorpasserà dall'altra parte. Allora le chiedo questo, quanto conta l'autonomia regionale in senso di trasporti? Perché poi la visione che si tende a dare è quella comunque di una collaborazione stretta, ci deve essere tra le regioni, tra le città metropolitane, però ci sono territori, ad esempio oggi parliamo del Mugello, in cui quasi le migliori domani a volte è più vicina su certe cose che il resto della Foscana. Quindi dove sta l'equilibrio, come dire, tra una collaborazione tra le regioni, ma anche un'autonomia, anche economica, ad esempio su questioni come l'aeroporto? Sta nella funzionalità e nella capacità di produrre ricchezza e lavoro di ciascuna regione, dentro una collaborazione, non è che devi fare, c'è sempre una competizione commerciale, anche tra strutture aeroportuali, ma devi fare guerre. Certo, se tu non hai nulla, è un'altra regione a tutto, a un certo punto l'altra regione, più che una collaborazione, darebbe vita a un'annessione, cosa che tra due città metropolitane della stessa dimensione e con indotti economici importanti mi sembrerebbe anche sbilanciato. Per quello, tra l'altro, c'è tutta un'asta della Toscana centrale che va proprio sulla costa verso Pisa, che è l'asta che regge anche un pezzo di sistema economico toscano verso Pisa e verso Livorno e che può essere di grande aiuto anche alla ricchezza complessiva e alla produzione di lavoro in tutta la Toscana. Se noi la potenziamo, perché noi da soli ci diciamo nelle mille polemiche abbiamo fatto, non bisogna fare la TAV, non bisogna fare il sistema aeroportuale integrato, io non parlo mai e non parlo perché avendo avuto il compito di fare anche un po' da disintesi per il programma nella fase precedente al Covid per la coalizione, io so che nella coalizione ci sono sensibilità diverse, ma le sensibilità si superano con una sintesi intelligente. La notizia positiva, ad esempio, la Ryanair è ritornata su Pisa perché ci sono stati accordi per cui è potuta ritornare su Pisa, l'investimento Pisa attende, mi pare, 70 milioni di investimenti strategici da parte di Toscana Aeroporti, poi c'è la costruzione della nuova pista, ma tutto si tiene insieme perché finalmente siamo riusciti a fare un'unica società. Togliere a quella società un pezzo, certo, mi si dirà, la Piana è contraria. Tutti i sindaci però della Piana, anche quelli che fanno, soprattutto quelli che fanno riferimento al Partito Democratico, ma non solo, sono disponibili al dialogo se la decisione politica va avanti in questa direzione. Al dialogo, 30 milioni rendo conto che nessuna forzatura va fatta, vanno ascoltati i territori, vanno inseriti dentro un osservatorio, vanno inseriti nelle trattative con il Ministero, nelle procedure che il Ministero e quindi nella capacità di incidere sulle procedure ambientali e di qualità della vita che il Ministero dell'Ambiente e non solo fanno rispetto a quell'area, vanno inseriti dentro un ragionamento complessivo su tutto il quadrante, su tutta l'area, perché ci sono tante cose che si possono fare, non solo insistendo dentro quell'area, ma anche per migliorare la qualità dell'area e della vita in un'area così importante e industrializzata, ricordiamo bene che tra centri commerciali e industria, qui siamo nella, mi pare, per produzione di PIL nella quarta area d'Italia, quindi non siamo, c'è già un carico grande, dobbiamo fare in modo, sapendo che il futuro non può che essere un investimento sulla Toscana carbon neutral e ci sono ben accenni, la Toscana carbon neutral significa Toscana che non utilizza da qui al 2030 più, che è autosufficiente dal punto di vista delle energie rinnovabili, utilizzando anche le particolarità che la Toscana ha, la geotermia, che va rifinanziata, il governo Lega Movimento 5 Stelle ha messo in condizione, a parte la Toscana, di avere meno incentivi a quell'energia rinnovabile, che sono stati tolti tutti, vanno reinseriti, lo sta già chiedendo la Regione e continueremo a chiederlo come forze politiche regionali, nel programma per la candidatura di Eugenio Gianni questo è uno dei punti fondanti e poi c'è altro, quindi la Toscana non deve dimenticare, non è una battaglia ambientalisti o amanti dell'ambiente o cultori del paesaggio contro chi vuole uno sviluppo sradicato dalle cose, c'è una sensibilità diffusa che va nella direzione dell'economia green, dell'economia verde, degli investimenti in questo settore, delle infrastrutture sostenibili, ma sapendo che la Toscana non può correre oggi, tanto meno il rischio di restare indietro rispetto a quel pezzo di locomotiva di paese che è il nord Italia. Seda, 30 secondi proprio, visto che ne parlava di una zona e parlavamo dell'ambiente, insomma in quella zona è stato depennato pare ormai categoricamente Casa Passerini come termogalizzatore, c'è la suggestione che al suo posto possa venirci invece un impianto che ha periodo di riciclo dei rifiuti, è un'ipotesi verosimile e cosa ne sarà poi dell'inerte, del famoso ultimo miglio del rifiuto che comunque in qualche modo poi andrà gestito? Velocissimo però su questo, lo so che sarebbe una risposta ampia. No, una risposta ampia dico solo questo, ovviamente sto al nostro programma, il principio fondamentale è che l'economia circolare è la grande opportunità del futuro anche per i rifiuti, non solo per i rifiuti ma anche per i rifiuti, per il riuscirlo, il riutilizzo e ovviamente anche la ricollocazione sul mercato dei rifiuti, perché questo è importante, dei rifiuti differenziati. La Toscana deve essere autosufficiente dal punto che non può portare i rifiuti fuori, come sta facendo fuori dalla regione, per costi e anche per motivi ambientali. Seguire le direttive europee significa ridurre e sostanzialmente azzerare le discariche e ridurre fortemente il ricorso all'incenerimento e alla termovalorizzazione attraverso la raccolta differenziata e le altre forme ovviamente di raccolta dei rifiuti, quindi anche nella fase successiva alla raccolta stradale o casa per casa dei rifiuti. Essere autosufficienti significa avere la capacità anche di immaginare il futuro. Ci sono alcuni progetti che devono vedere coinvolta tutta la regione toscana, lei probabilmente nella sua domanda non l'ha detto ma faceva riferimento anche alla bioraffineria possibile a Livorno, è un progetto che va concordato con le comunità locali, ci vorrà una grande capacità di far vedere la qualità ambientale di quel progetto oltre alla qualità economica e occupazionale. Può essere una risposta? Certo, se fatta bene, perché Casepasserini è una grande sconfitta, diciamolo chiaramente, è un grande insegnamento. Le cose non le fai sorpassando le comunità locali, non le fai con delle, come dire, perché a un certo punto i procedimenti sono talmente complessi per opere di questo tipo che devi essere in un'armonia pur nelle differenze, come ho cercato di spiegare prima per quanto riguarda il percorso dell'aeroporto delle infrastrutture. Poi quando insistono su due o più sullo stesso territorio a maggiorare bisogna imparare da quell'errore e bisogna imparare, bisogna mettere in campo una serie di azioni che tengano tutti insieme, chi gestisce i rifiuti in tutte le aree della Toscana, chi ha il compito di lavorare sulla definizione di quell'area, chi ha il compito di rappresentare tutti i cittadini di quell'area, nel caso che il progetto vada avanti. Proprio recentemente l'avrà visto, è uscito proprio un comunicato congiunto del partito regionale insieme al partito di Livorno e di Colle Salvetti, che sono i due comuni dove insiste l'area industriale di Stagno, e abbiamo trovato una sintesi, come avrà visto, non demagogica, in cui si cerca di raccontare un percorso possibile. Senta, avrei diverse domande. Uno glielo voglio fare, però anche qui le chiedo di essere molto rapido, perché abbiamo già esaurito il nostro tempo, è sul discorso della scuola, lo citavo come una delle macro aree su cui investire. Le voglio fare una domanda specifica, però c'è nella vostra idea di programma di regione toscana del futuro il fatto che la scuola possa diventare davvero in qualche modo la relazione diretta con il mondo del lavoro, cioè colmare quel gap tra domanda e offerta che esiste in Toscana, che è un po' un paradosso quando c'è una crisi occupazionale, soprattutto quella alle porte così forte. E qui mi viene in mente anche, volendo, ci sono degli istituti di formazione professionale, l'ITS per DNE1, che sono degli esempi che poi guardando ai dati dell'occupabilità funzionano molto bene, si può incentivare, si può investire su questo. Insomma, quali sono le vostre formule brevemente? Le nostre idee proprio. L'ITS tra l'altro sono uno dei punti che saranno centrali nel programma sulla scuola. Sono istituti post diploma, danno lavoro, l'ha detto Alessio Poggioni, ma danno lavoro a 90 ragazzi o giovani su 100 che si iscrivono a quei corsi, prevedono 8 ore di teoria e altrettante di pratica in azienda. Sono una forma che, meglio dire, nel modello tedesco funziona ormai a regime, sono 7 ormai, mi sembra, in Toscana, dobbiamo ampliarla quella formula, estendendola a tutti i settori che ancora mancano e rafforzando anche quelli che già ci sono, rendendoli anche, come dire, con le sottosezioni capillari in tutta la Toscana, ampliando anche i posti e le opportunità e facendo accordi con le aziende. Poi c'è anche il grande problema dell'edilizia scolastica, che non è competenza specifica della regione, competenza dei comuni o delle province delle città melocortiche, ma la regione può fare, e anche questo l'abbiamo inserito, può fare da collettore di risorse e anche da collettore di finanziamenti europei, perché ricordiamoci che quello che si definisce il Recovery Fund, che è il fondo di ristoro dell'Europa per questi tanti miliardi, quando si dice ci imporranno alcune cose, semplicemente l'Europa dà alcune linee guida, la scuola è tra le prime, quindi la digitalizzazione ad esempio è come l'economia green, la scuola è tra le prime e quindi noi possiamo essere una regione che strutturando ancora meglio uffici dedicati alle relazioni con l'Unione Europea riesce a fare sistema e a prendere diversi di quei fondi europei che spettano alle regioni, cercando poi di darli ai comuni per l'edilizia scolastica, oltre che per altre, per la ricerca, per l'università, l'edilizia scolastica è il tema dei temi anche visto quello che è successo con la pandemia e quello che succederà a settembre. Mi pare siano di queste ore le prime finalmente definizioni precise, abbastanza precise rispetto a quello che si debba fare a settembre. Uno dei temi è evitare il classico ollaio, avere come succede ad esempio in sanità quando hai ospedali nuovi riesci a modularli in maniera importante, quando hai scuole adeguate e grandi riesci a modularli e a dare sicurezza ai ragazzi. Ora siamo in una fase ovviamente in cui devono ritornare tutti a scuola nelle modalità migliori, l'investimento per il futuro grande dovrà essere sulla sicurezza dei ragazzi e ovviamente sulle gare sempre di più la scuola al mondo del lavoro. Molto bene, abbiamo esaurito il nostro tempo, non si fa per galanteria di solito, soprattutto perché si ha a che fare con una donna, ma la battaglia tra Gianni e Ceccardi sarà anche molto forte, la temete in qualche modo? Mai sottovalutare nessun avversario. Vedremo come andrà, grazie mille Massimiliano Pesce. Comunque siamo fiduciosi diciamo che Eugenio Gianni possa essere il prossimo presidente della regione toscana. In bocca al lupo, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. A tutti per averci seguito da casa, Telegram termina qui, noi ci vediamo domani, buona serata a tutti. Ciao.